Allora io vedo passare la camionetta dei fascisti e tedeschi che va su e siccome alla sciopera c'erano tutti i contadini e va su e continua, è andata invece a casa di Aleotti e le ha incendiato la casa che poi gli Aleotti erano allo sciopero. Quindi qualcuno ha fatto la spia? Ecco, subito hanno fatto la spia perché a Montecavolo c'erano poi tanti fascisti. Non è che eravamo tutti, hanno fatto la spia e dopo lo sciopero diciamo che è riuscito a Montecavolo e non negli altri paesi di Reggio perché se fosse successo questo in tutta la provincia avevano qualcosa da fare i fascisti e i tedeschi. Invece così si sono concentrati su Montecavolo perché a Rivalta non è riuscito, perché qualcuno diceva, così come dicevano dopo, insomma, che qualcuno diceva non andate perché vi andate a far ammazzare. Questo poteva anche essere, comunque le lotte erano da fare perché facevano parte a tutta questa clandestinità che avevamo, lottavamo opposta per fare le lotte per arrivare a finire tutto questo. A casa mia hanno arrestato l'Antina e la Liliana e Narciso perché hanno trovato solo quelli lì. Che aveva dieci anni. Che Narciso aveva dieci anni perché ne compiva undici in settembre e lì eravamo in marzo e aveva ancora dieci anni. Dopo l'hanno poi riportato a casa lui, hanno tenuto dentro l'Antina e la Liliana. Mia madre era rimasta a casa con i più piccoli, la Beatrice che aveva cinque anni, era del 39. Avevano insaccato tutto perché se venivano a bruciare perché non si sapeva se poi rimaneva lì questo bruciare. E dopo hanno arrestato tutti, mio padre non l'aveva trovato, l'hanno trovato dopo sette, otto giorni, l'hanno arrestato e mandato in campo di concentramento in Germania. Gli Aleotti sono venuti anche da loro e hanno arrestato il più piccolo, che era un amico di Chico Cattelan, e il più vecchio perché hanno trovato quei due lì e hanno arrestato, hanno mandato in Germania anche loro. Il piccolo che aveva, non so, 16-17 anni. Dopo, quella sera lì, noi dagli Ardo vedevamo tutto il fuoco, si vedeva perché là c'era un po' un'altura, tutto il fuoco che c'era scampato e che bruciavano tutte le case. Grazie.